Ben ritrovati a tutti, nuova intervista sul canale di Bioblue24. Prima che essere un politico, un senatore della Repubblica, Armando Siri è uno giornalista, uno profondo conoscitore della società, uno studioso di scienze umane, filosofia, psicologia ed oggi è tornato sul nostro canale proprio in questa veste. Buonasera. Che bello, meno male, è bello essere in questa veste qua. Grazie per l'invito. Allora, tra giornalisti possiamo darci del tumo. Mi sento un po' in soggezione perché le altre volte che sei venuto parlavamo appunto di politica e ne rispondevi in qualità appunto di senatore. Oggi però ho fatto questa premessa perché non parleremo in senso stretto di politica, ma dell'esigenza di dar vita ad una nuova società. Perché utilizziamo, diciamo, l'aggettivo nuovo? Perché quella di oggi sembra arrivata un po' ad un punto di rottura, una società basata esclusivamente sul proprio tornaconto personale, dove i sentimenti, non so, di fratellanza, di solidarietà reciproco vengono completamente o quasi del tutto annullati. Quindi, se una società ruota attorno a tutto questo, è normale che poi anche i loro componenti ne siano di fatto direttamente influenzati, no? Ma ci rendiamo conto di questo, ma che cosa stiamo facendo per cambiarla questa società? Io direi che la domanda di partenza dovrebbe essere questa. Sta facendo qualcosa l'uomo per cambiarla? Allora, intanto bisognerebbe subito dire una cosa che però è un pugno nello stomaco, perché è una grande assunzione di responsabilità. La società sei tu. Quindi, se vuoi cambiare la società devi cambiare te stesso. Se no, è come guardarsi allo specchio, vedersi spettinati e voler pettinare lo specchio. E quindi c'è grande frustrazione, perché tu ti guardi allo specchio, vedi spettinato, vuoi pettinare lo specchio e non cambia mai l'immagine che vedi nello specchio. E questa però è veramente una grande assunzione di responsabilità. Noi invece tendiamo, tendenzialmente gli individui, a voler guardare i difetti negli altri, a voler cambiare gli altri, senza capire che in quegli altri ci siamo noi. Immaginate quelli che la mattina presto vanno al bar a prendersi il cappuccino e la brioche. Una volta c'era con il giornale sotto braccio, si andava, no? E si cominciava alle sei del mattino con il barista dicendo, eh, hai visto Franco? Eh, ma che roba, certo che questi italiani non cambiano mai. Poi arriva un altro e dice, ah, Franco hai visto sul giornale stamattina? Ah, no, questa è Italia, ma che vergogna, eccetera. Insomma, alla fine questo Franco aveva contato 100 italiani che avevano detto che non avrebbero mai cambiato. E quindi parliamo sempre di noi quando parliamo dell'esterno. L'esterno è una proiezione, una porzione di una proiezione di quello che noi siamo. E il lavoro più grande è il lavoro su se stessi, cioè il modificare delle cose. Non possiamo chiedere agli altri di essere migliori di quanto non siamo noi. E questo avviene anche in politica, no? Dal politico mi aspetto che sia migliore di quanto sia io, in un sistema che è fondato sulla democrazia della rappresentanza. E quindi rappresentare vuol dire appunto dare sembianze a ciò che sei. E allora se io sono in un modo, se la società nel suo insieme è composta nella maggioranza di un certo tipo di essere, naturalmente quei rappresentanti non potranno essere differenti. Allora bisogna cambiare un po' se stessi per cambiare l'esterno. E allora a quel punto il mondo comincia a cambiare. Se io esco la mattina sorridendo, trovo qualcuno che sicuramente mi sorride. Se io esco la mattina col broncio e con il muso, troverò persone col broncio e con il muso. È molto semplice. Sembra una sciocchezza un po', no? Così banale. Invece è proprio esattamente così. Basta fare una prova. Però c'è da dire comunque che la società di cui stiamo parlando adesso è che appunto necessiterebbe un cambiamento. È profondamente focalizzata su tutti gli aspetti esteriori, non interiori, che sono invece appunto come tu hai appena detto, quelli fondamentali. Certo. Del resto lo definisce anche l'approccio alla malattia, no? Per dire. La medicina allopatica, la nostra medicina tradizionale, cura i sintomi, non cura le cause. Cura l'esterno, non cura l'interno. E quindi noi siamo abituati che per ogni mal di testa c'è una pillola, se c'ho la pressione alta c'è una pillola. Se ho qualunque malessero c'è una pillola che mi toglie i sintomi, ma non mi ha curato le cause di quel malessere. E quindi curare le cause significa però occuparsi un po' di più di se stessi. È più difficile. Se ho tantissime, pensiamo a tantissime malattie autoimmuni, no? Come l'apsoriasi, che è molto diffusa. La malattia autoimmune è uno squilibrio dell'organismo. E quando parlavamo prima di società e parlavamo di individui, cos'è che stavamo dicendo? Stavamo dicendo che gli esseri umani, noi individui siamo le cellule della società. Se noi siamo sani, la società è sana. Se noi siamo malati, se c'è uno squilibrio dentro di noi, una frustrazione, un dispiacere, una paura, il problema dell'autostima, che è un problema enorme, no? Tutto questo si riversa nella società. Se io faccio un lavoro che non mi piace e lo faccio tutti i giorni, che tipo di energia in mano fuori. Se io sono un barista e invece di voler fare il barista nella vita volevo fare il ballerino, il pittore o il viaggiatore nel mondo, come lo offrirò quel caffè al mio cliente? Con amore? Con sorriso? Con passione? Attraendo molti clienti? Oppure lo offrirò in modo stanco, svogliato e un po' rabbioso? E quindi tutto quello poi crea un micro, come dire, sistema che si fonda sulla frustrazione, sul disagio, sulla preoccupazione, su tutti questi sentimenti che sono sentimenti che abbassano poi il tono della società. Diciamo che c'è allora un'evidente crisi collettiva di identità. Di fronte a questa situazione hai cercato di porre rimedio in che modo? Cioè puntando su un certo tipo di formazione? Sì, nel senso che la crisi intanto è una grande opportunità. Crisis viene dal greco, crino, giudizio, scelta. La crisis è il momento in cui abbiamo due strade e dobbiamo scegliere. È l'occasione della speciazione anche. La speciazione, come dice Darwin, a un certo momento nell'evoluzione c'è un momento in cui un gruppo si spegne e da questo gruppo ci sono piccoli numeri di elementi di questo gruppo che cominciano un cammino nuovo. All'inizio sono piccolini, all'inizio sono pochi, ma poi diventeranno il nuovo ramo dell'albero e gli altri si spegneranno. Quindi la crisi è l'occasione per tutti quelli che vogliono risvegliarsi interiormente e accettare questa grande responsabilità che è anche una bella visione della vita, di essere i protagonisti di questa vita. È la differenza tra vivere e sopravvivere. Allora per quello che, un po' come faccio da sempre, mi occupo da sempre di formazione, adesso abbiamo lanciato questa scuola di crescita personale che è la prima scuola di crescita personale in Italia che riunisce tutte quelle discipline che non sono le discipline che noi studiamo a scuola. Ed è un peccato, ad esempio, la nostra scuola è ancora una scuola molto tradizionale, è una scuola dove ti insegnano, ma dove difficilmente ti educano. Viene da esducere, cioè tirare fuori il meglio che c'è nei bambini, nei ragazzi e avere poi degli adulti soddisfatti e non degli adulti con un curriculum in mano, con scritte delle cose su di loro che poi non corrispondono a quello che è il loro interiore. Però perché, scusami, si decide allora di mettere nel dimenticatoio tutte queste discipline che invece dovrebbero contribuire a creare un uomo forte? Perché sono pericolosissime, perché sono molto pericolose, perché il mondo funziona da piccolo. Tu a tre anni chiedi perché delle cose agli adulti e gli adulti ti rispondono perché quando sarai grande capirai, cioè quando sarai grande anche tu imparerai ad accettare le cose come abbiamo fatto noi, senza farti troppe domande. Perché il mondo è un posto troppo piccolo per un bambino e quindi diventando adulto il bambino si restringe e si ridimensiona per stare in questo mondo così piccolo, dove tutti hanno imparato ad accettare anche le cose che fanno male. E quindi queste cose qui che noi diciamo in questa scuola non agevolerebbero lo status quo del mondo che vuole rimanere sempre piccolo. Pensa anche solo alla parola stato, che è il participio passato del verbo essere. Come fa uno stato a cambiare, ad evolversi? È un participio passato, ma anche il futuro. Il futuro, ad esempio, è un tempo che non viviamo mai. Io dico sempre che il tempo migliore è il gerundio, quello che i francesi traducono sto facendo qualcosa, perché mentre la sto facendo esiste e vive insieme a me. Se l'ho già fatta non vive più, se la farò non c'è ancora, se ce l'ho nel presente mi è già sfuggita. Allora, il gerundio ci aiuta a stare continuamente sulle cose che sentiamo di fare. Allora, una scuola così vuol dire che parla di simbologia, parla di simbologia vuol dire tante cose, per dire una delle nostre materie è la simbologia. Ci sono 28 ore dedicate alla simbologia, dove parliamo della simbologia cristiana, delle religioni, la simbologia che sono soprattutto quelle più importanti, che ci portano, diciamo, la caratterizzazione dei simboli, che sono importantissimi, perché l'inconscio nostro, se tu gli vuoi dire qualcosa, anche per cambiare profondamente, lo devi fare attraverso i simboli, perché le parole non funzionano. E per questo, ad esempio, che le liturgie religiose sono così cariche e piene di simboli. Ogni simbolo ha un significato molto forte e quindi 28 ore sono dedicate alla simbologia. Poi c'è tutto il mondo della fisica quantistica, che è un mondo straordinario. La fisica quantistica, fino a dieci anni fa, era considerata una pseudoscienza. Oggi, con la prova scientifica del famoso entanglement quantistico, cioè del legame quantistico a livello subatomico, è diventata una scienza reale. Il paradosso del gatto di Schrödinger, il gatto è vivo e morto nella scatola contemporaneamente, ed è l'osservatore che influenza l'esperimento. Quindi il gatto nella scatola sarà vivo o morto a seconda di come tu vuoi che siano le cose. E quindi pensa che è assunzione di responsabilità e quello diventa scienza. E poi ci sono tantissime altre cose. Le neuroscienze, una grandissima nuova disciplina che ci riporta a quello che già gli antichi però ci avevano detto, sulla nostra capacità di intercettare intorno a noi il grande mondo dell'universo, del cosmo, pieno di indicazioni e pieno di facoltà e di potere per l'essere umano. Ma deve essere l'essere umano che deve essere disposto ad accettarlo, perché se non è disposto a farlo, naturalmente lo perde per strada. Chiaro. Uno dei tuoi ultimi libri si intitola Dipende da te. Pensieri e appunti su una nuova società. E all'interno di questo libro, mi sono appuntata a una frase, viene detto, c'è solo un ostacolo da superare, la paura di scoprirsi diversi. Ma che cosa intendiamo oggi con diverso? Diverso è tutto ciò che è appunto diverge dal tradizionale, da tutto ciò che ci viene posto come un tabù, come una sorta di legge invalicabile e insuperabile. Pensiamo che però la nostra storia arriva da qui. Se qualcuno ha voglia di andare a indagare le nostre origini anche culturali, che sono prettamente giudaico-cristiane. Andiamo a vedere il Gesù dell'epoca del Tempio. Diceva, ma quando parlava della legge mosaica, voi non foste fatti per il sabato, ma il sabato per voi. Ed era proprio una cosa molto diversa, molto divergente per quel tempo. Adesso a noi non dice nulla, ma era una grande provocazione. Ciò che è diverso, che è divergente, rappresenta l'evoluzione. Noi oggi abbiamo vissuto tutto il tema, ad esempio, del covid, delle mascherine, delle chiusure, dei lockdown, dei coprifuoco. E una cosa che a me ha colpito moltissimo è vedere i giovani quanto lo hanno accettato di buon grado. E quando i giovani accettano di buon grado qualcosa che il mondo gli dà come confine, significa che in quel momento c'è una crisi evolutiva. Perché i giovani da sempre rappresentano la rottura di uno spazio, la rottura di un confine. Quando il giovane non va in quella direzione lì e accetta le cose per come sono, lì c'è veramente una crisi evolutiva, che dovrebbe farci veramente molto riflettere come esseri umani, come comunità umana. Tolstoi, lo riprendi anche nel tuo libro, diceva Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiare se stesso. Ecco, l'abbiamo anche scritto. Alla base delle società occidentali c'è sicuramente, prevalentemente, il concetto di democrazia. Democrazia quindi pluralismo, quindi diversità. Ecco, ritorniamo questo concetto, ma è un caso che oggi anche la democrazia abbia comunque dei problemi a rimanere tale? La democrazia è complicatissima, difficilissima, perché la democrazia prevede che ci siano dei re che decidono. Quando c'è stata la rivoluzione francese, il re è stato decapitato, la corona è caduta. Tenete presente che la corona è il simbolo del collegamento tra Dio e l'uomo, perché il collegamento tra Dio e l'uomo è rappresentato da questa cosa sul capo, che è una sorta di antenna che intercetta le cose dell'universo, le cose di Dio, le cose più grandi di noi, la conoscenza assoluta. E il re ha la responsabilità, responsabilità vuol dire abilità a rispondere, delle cose del divino portandole sul piano umano. Ecco, è molto complicata la democrazia, perché quando quel re lo hanno decapitato, hanno detto idealmente che la corona sarebbe andata sulla testa, sul capo di tutti i cittadini. Ma è veramente così? Ma davvero quando ti svegli la mattina tu pensi di essere un re? Davvero quando ti svegli la mattina tu ti occupi dei grandi affari di Stato, delle grandi questioni economiche, delle grandi questioni che riguardano la società? O ti occupi di casa tua, dei tuoi problemi, delle tue questioni? Ecco, e lì c'è la grande finzione, la grande ipocrisia intorno alla democrazia. La democrazia in Grecia, e parliamo di un periodo dove erano i filosofi, erano i sapienti che prendevano le decisioni, è molto diversa dalla democrazia di oggi, dove si fa credere che la gran parte del numero dei cittadini, le maggioranze possono prendere le decisioni, ma in realtà poi queste decisioni vengono prese da piccoli gruppi di potere, perché il potere in realtà, il kratos, no? Demos kratos, il potere è lo scopo, se tu hai uno scopo eserciti il potere, se tu non hai un tuo scopo allora subisci il potere di altri che lo scopo ce l'hanno, ed è quello che avviene se pensiamo, no? Attraverso la comunicazione, attraverso i consumi, attraverso i bisogni, attraverso anche, vedete come abbiamo reagito nei confronti della paura, no? Le neuroscienze lo spiegherebbero bene, la paura è un sentimento irrazionale che se tu lo irradi nella popolazione ottieni una risposta che è appunto quella di adattamento di questa popolazione, cioè si perde completamente il discernimento, si perde completamente la facoltà razionale di pesare le cose per come sono e si ci fa prendere dalla suggestione, dall'irrazionalità che poi ti fa comportare anche in modo autolesionista o autosabotante. Nel libro, visto che hai citato appunto la democrazia degli antichi greci, viene sdoganato proprio questo filo diretto che unirebbe appunto la democrazia greca con quelle attuali per le motivazioni che hai appena dato. Tra le discipline di questa nuova scuola di formazione che partirà a settembre, giusto? Sì, parte a settembre, esattamente, online e anche in presenza con tantissimi relatori nazionali e internazionali di primario livello. C'è una prevalenza, possiamo dire, di materie più umanistiche invece che scientifiche, questo perché probabilmente la coscienza non riesce ad evolvere senza il sostegno di uno studio di queste materie, che cosa ne pensi? Assolutamente, e tutto nasce dalla domanda. Se non c'è la domanda, non c'è nulla. Arriva da lì, cioè tutto quello che noi possiamo immaginare, lo diceva già Walt Disney, tutto ciò che possiamo immaginare lo possiamo fare, lo possiamo realizzare. Se non c'è qualcuno che immagina di poter volare a un certo punto nella nostra storia, pensiamo a Icaro, chi è che poi avrebbe realizzato l'aeroplano che noi oggi prendiamo con così tanta facilità? Cioè, la cosa più importante è la domanda, l'immaginazione, il dare spazio alla fantasia. Noi vedevamo Star Trek, no? Non so tu perché tu sei più giovane, ma noi da ragazzini vedevamo Star Trek e vediamo il capitano Kierke che apriva questo Star Trek, quello che poi sarebbe stato negli anni 90 il telefonino di nome Star Trek e comunicava con gli altri. Ecco, quella cosa lì cos'è che ti fa dire? Ti fa dire che se tu in qualche modo l'hai immaginato, all'epoca era un film di fantascienza e poi è arrivata quella cosa. Quindi l'uomo ha questa grandissima capacità, questa grandissima facoltà di immaginare. L'immaginazione è un grandissimo potere, ma è un potere anche questo che viene tenuto a bada. Com'è che viene tenuto a bada? Viene tenuto a bada infarcendo il cervello, l'anima delle persone sulle preoccupazioni. Preoccuparsi vuol dire occupare prima uno spazio in un tempo che ancora deve venire. E lì consumi tutte le tue energie e quindi più sei preoccupato, meno immagini, meno hai potere, meno riesci ad emanciparti dalla tua condizione di sofferenza. Invece è l'immaginazione che ci toglie da quella condizione di disagio profondo che spesso in questa epoca molte persone vivono. Intanto ci sono università negli Stati Uniti d'America che stanno abolendo completamente gli studi umanistici. Quindi ritorniamo alla questione iniziale, cioè si ha paura di questo tipo di studio? Assolutamente. Conosci te stesso conoscerai l'universo e gli dèi, scrivevano appunto gli antichi sul Tempio di Delfi. Che vuol dire che cosa? Dobbiamo immaginare che tutto quello che noi sappiamo, immaginiamo Pitagora, immaginiamo Archimede, Anassagora, cioè immaginiamo tutti coloro che nell'antichità si erano posti. I grandi temi che ancora oggi rappresentano le leggi su cui si fonda la nostra vita. Senza il fatto che io mi sia interrogato i sapienti, i filosofi. Oggi se tu pensi e poni i tuoi pensieri all'attenzione dei tuoi amici, dei tuoi colleghi, ti dicono sì sì vabbè ma filosofeggia poco, vieni al dunque. Spesso a me mi dicono quello lì è un filosofo, è quasi un dispregiativo. Ma filosofia vuol dire proprio le domande che cercano la sapienza nelle cose. Se non osservo il cielo, pensiamo al cosmo. Tutto quello che abbiamo ereditato del cosmo che gli antichi sono riusciti a scoprire senza avere la tecnologia, senza avere i cannocchiali, senza avere i telescopi, senza avere i satelliti. Hanno mappato le grandi costellazioni, il moto dei pianeti, la luna. Pensate a Copernico, pensate a Galileo, a Tolomeo ancora prima, poi smentito da Copernico, ma c'era la voglia di interrogarsi sulle cose. E quello è tutto umanistico. È umanistico perché? Perché è l'umano che va verso Dio, verso la conoscenza, attraverso le domande. Se noi invece riduciamo tutto a mera scienza priva del cuore, cioè priva dell'animus, priva della psiche in quanto anima, noi siamo solo e ci riduciamo ad essere macchine. Purtroppo si va verso quella direzione lì. L'umanità avrà tre grandi, diciamo, filoni evolutivi. Un grande filone che sarà quello dei cyborg, del mondo virtuale, della realtà aumentata. Oggi se tu parli a un ragazzino di otto anni, dieci anni, gli dici senti ma se ti metti un chip e poi così con la mano paghi, entri, fai, lui dice sì sì, come no, figata, bellissimo, eccetera. Perché le nuove generazioni sono già predisposte a rinunciare a una parte di umanità e andare verso un mondo che l'umanità la relega sempre di più e diventi sempre di più parte di un grande ingranaggio tecnologico e virtuale. Che a chi è più grande, come dire, resta come dire così, molto spaventato quasi di questo. Ma chi è più piccolo lo prende tranquillamente perché ormai fa parte del suo codice, come il telefonino, come i videogiochi, come tutto quello che abbiamo imparato ad essere oggi internet, la rete, la tecnologia che non è di per sé malvagia, ma è come un coltello o una forchetta. Tu li puoi utilizzare per tagliare una pietanza o li puoi utilizzare infilzando qualcuno. Quindi è l'uso che l'essere umano fa della tecnologia. Ma andremo verso una parte di cyborg, verso una parte di tutto quello che è la modificazione genetica. A Cupertino già si sta lavorando a degli uteri artificiali che in cinque mesi producono il bambino, in cinque mesi, non nove mesi, cinque mesi producono il bambino e lo producono alto come lo vuoi tu, maschio o femmina come lo vuoi tu, con gli occhi come lo vuoi tu e ti dicono anche la data di scadenza. E queste non sono cose, diciamo, fantascientiche, sono cose lì, a disposizione, si riveleranno fra poco. Del resto la scienza, quando noi parliamo della scienza, diciamo scoperta scientifica. Cosa vuol dire scoperta scientifica? Scoprire vuol dire togliere un velo a ciò che c'è già e che solo in quel momento in cui il velo viene tolto l'uomo è pronto ad accorgersi che esista. Quindi ci sono tantissime cose che stanno avvenendo e una parte piccola, una piccola porzione di umanità sopravviverà facendo che cosa? Sviluppando il potenziale della psiche. Noi usiamo soltanto il 5% del nostro cervello. Ecco, una parte piccola dell'umanità conserverà questa sua caratteristica umana sviluppando le grandi caratteristiche del nostro potenziale che è tutto umano ed è superiore a tutto il resto. Quindi credi che non verrà soffocata dinanzi a tutta questa deriva? Non verrà soffocata ma purtroppo rischia di essere un piccolo gruppo di individui, una sorta di piccola resistenza, a meno che, a meno che, c'è sempre un a meno che, perché c'è sempre un paradosso, c'è sempre un cigno nero, come si dice in economia, a meno che non avvenga qualcosa di straordinario per cui l'uomo in qualche modo davvero riveli a se stesso la sua grande voglia di essere quello che è, cioè che cosa? La rappresentazione di Dio nel mondo. Siamo in una televisione, come giornalista non posso non chiederti, farti questa domanda. Che ruolo ha l'informazione nella costruzione di un certo tipo di società? Lo dice la parola stessa. Informazione vuol dire formare dentro. Informazione, cioè formare dentro, vuol dire l'informazione ha un ruolo enorme, soprattutto in una società che va nella direzione di questa malattia molto grave, che è molto più grave del covid, che è l'analfabetismo funzionale. Cioè oggi gli esseri umani non sono più abituati a pensare come gli antichi, no? E quindi la capacità dell'emisfero destro e dell'emisfero sinistro del cervello di processare dati complessi è sempre più ridotta. Io pubblico nel libro un tema di una bambina di dieci anni, di quinta elementare, che se tu lo leggi, vedo che hai il mio libro lì, se tu lo leggi questo tema ti stupisce perché tu leggendo lo dici ma questo l'ha scritto un universitario, non una bambina di quinta elementare, era il 1945. Ecco, questo ti fa capire quanto ci siamo impoveriti, quanto ci siamo impoveriti nel linguaggio, nella capacità espressiva e tutto questo è a discapito dell'umanità. L'informazione si infila lì dentro, ti dà dei bite, no? Di piccole porzioni di cose e tu non sai mai qual è la verità e la voglia di scoprirla, questa verità, è sempre meno purtroppo. E lì la sfida, cioè l'informazione viene, l'informazione corretta viene quando tu ti fai la domanda. Io dico, io ad esempio non leggo i giornali, non guardo la televisione, non guardo, io dico, dico sempre a tutti, anche agli studenti, dico se tu vuoi sapere qualcosa, fatti la domanda. Oggi abbiamo Google, una volta si andava in libreria, no? Fatti la domanda, scrivi la domanda, ma non aspettare che ti venga data la risposta senza esserti fatto la domanda, perché lì in quel momento non c'è informazione, ma c'è solo condizionamento. Ricapitoliamo questa tua importante iniziativa su questa scuola di formazione, partirà a settembre, tante materie, tanti relatori, come si fa a partecipare? Guarda, c'è un sito che è www.scuoladicrescitapersonale.it, www.scuoladicrescitapersonale.it, è come dicevo l'occasione per ascoltare veramente relatori di primario livello, fisica quantistica, neuroscienze, simbologia, tantissime cose veramente straordinarie, con dei relatori eccezionali e si scopre, io tra l'altro voglio dire che ho parlato un po' anche con i relatori, essendo il curatore della scuola, io stesso, che sono uno che si documenta molto, studio eccetera, sono stato veramente stupito dalle cose straordinarie che abbiamo a disposizione e che sono purtroppo ad appannaggio di pochissimi gruppi di persone, invece dovrebbero essere portati a tutti, a disposizione di tutti, perché è giusto che ciascuno possa decidere il proprio avvenire e lo debba fare con tutte le nozioni possibili e immaginabili a disposizione. Sì, oltretutto siamo in un momento storico estremamente determinante, quindi è importante veicolare questo tipo di messaggio e noi cerchiamo di farlo. E voi lo fate, davvero con grande coraggio. Ci proviamo, grazie ad Armando Sir per essere stato su Bio Blu e aver condiviso con i nostri spettatori queste importanti riflessioni su una nuova società. Grazie, al prossimo aggiornamento.